Ciao a tutti! Questa è la tenuta da pulizia del viso, trattamenti viso, da unghie, gel, manicure e tutti i trattamenti che richiedono una vicinanza al vostro viso, quindi anche le sopracciglia, i baffetti e quant'altro. Ora la tolgo se non muoio, era per farvela vedere. Comunque, direi che tutte le cose che si possono utilizzare per igienizzare l'ambiente vengono usate, quindi potete venire completamente rilassati di non prendere niente. Indossate sempre la mascherina e i guanti quando venite a fare i trattamenti. Ora vi faccio vedere un pochino l'organizzazione che ho creato. Qui dalla tasta c'è il gel, qui ci sono le strisce che delineano le distanze che si devono tenere, che sono sempre almeno di un metro. All'entrata ci sono i cartelli con tutte le disposizioni che abbiamo messo e qui c'è il tavolino all'entrata sempre dove potete trovare il gel per le mani in modo da igienizzarle nel momento in cui vi togliete i guanti. Qui ci sono anche le uscite di emergenza, chiamiamole così, una sorta di uscita secondaria. Vi ricordo che potete fare anche le lampade. L'unica cosa è che dovete prenotarle perché per un discorso logistico ovviamente se ci sono altri clienti in negozio non posso farvi accomodare, quindi anche per le lampade sarà necessaria la prenotazione. Si entra una persona alla volta, si entra con la mascherina necessariamente e se riuscite anche con i guanti in modo da toccare meno cose possibili per il rispetto vostro e nostro. Vi ricordo che potete prendere appuntamento anche tramite WhatsApp al nuovo numero che è 377 089 7802 oppure al classico numero di telefono che avete sempre usato che è 010 307 6631. Potete prenotare tutti i trattamenti estetici che facevate prima. L'unico che non svolgerò sarà il make-up perché non posso garantire l'igiene dei pennelli perché entrano troppo in contatto con occhi, mucose eccetera. Quindi quello è l'unico trattamento che non svolgerò per ora. Tutti gli altri trattamenti saranno i soliti, quindi trattamenti corpo, trattamenti viso, manicure, pedicure, ricostruzione unghie, nail art, massaggi corpo, massaggi viso, pulizia del viso, vendita di prodotti, qualunque cosa. E niente, volevo farvi vedere un pochino come era organizzata la situazione in negozio e mando un abbraccio a tutti e speriamo di non soffocare nella mascherina. Buona giornata! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!